buongiorno buongiorno a tutti io sono shark bentornati su mad gaming mi tocca di fare i tre video sulle build della balestrina e ne farò uno soltanto perché sinceramente non ne ho voglia vi farò vedere le tre build perché li ho migliorati visto che ho droppato i gioielli che mi servivano quindi ho migliorato le tre build ve le vado a rifare a riproporre per darvi magari uno spunto in più in realtà su online le lightbogan quindi le balestre leggere come uso io vengono utilizzate ben poco e anche online si trovano in realtà pochissime build per pc quindi versione pc per quanto riguarda la lightbogan quindi ve le faccio vedere le mie tre vi dirò anche delle alternative alcune su alcune vi dirò alcune alternative e poi scegliete voi se volete giocarle o meno la differenza tra le lightbogan e le hbg è che le hbg possono fare le speedrun con i proiettili grappolo mentre per quanto riguarda le lightbogan invece sono molto più da parti molto più da vicinanza al mostro è molto più difficile da giocare con questo non significa che non siano efficaci perché sia in solo che in parti comunque sono efficacissime lo stesso ma andiamo a vedere subito dalla prima la più comune di tutte utilizzata nelle lightbogan è la balestrina ventaglio quindi andiamo a mettere ovviamente lo yura lo yura è una delle due balestre utilizzabili per il ventaglio l'altra è la de vilgio si utilizza con i ventaglio tre si fanno leggermente più danni ma si è molto molto più lenti quindi non si ha diciamo secondo me la performance migliore sui ventaglio mentre per me lo yura invece è molto più fruibile come arma e quindi vado ad utilizzare sia i ventaglio due che i ventaglio uno che i ventaglio tre in base alla situazione comunque detto questo proiettile yura quindi lo yura tre si fa con lo hierutodos la build in se è elm del ner gigante alfa abito di brigate beta questo si fa con facendo la rena celeste se per caso qualcuno lo sapesse kaiser ner gigante e kirin beta queste sono le abilità quindi noi sappiamo perfettamente che il proiettile ventaglio va su bonus d'attacco quindi bonus d'attacco al massimo occhio critico a tre in realtà c'è qualcosa che non sta funzionando in questa bellissima build perché non si sa no è giusto no è giusto quindi ho dicevo occhio critico occhio critico al tre perché con punto debole e con la nostra vicinanza prenderemo comunque sempre il punto debole quindi non è un problema avere occhio critico al tre bonus critico per ovvi motivi rivela munizioni due perché basta il due non il tre per avere comunque le cinque munizioni in canna massima potenza due non si riesce ad arrivare al tre è un peccato ma comunque anche questa è un'abilità fondamentale della core build bonus ventaglio e tiro potente per ovvi motivi angelo custodi invece ce lo dà il l'armatura in sé le modifiche alla balestrina che ho fatto io sono ovviamente due affinità e un attacco per avere già un'affinità abbastanza alta che del 15 per cento mentre se utilizzate la de vilgio dovete mettere tre potenziamenti di affinità perché la de vilgio al meno 30 per cento o meno 25 non mi ricordo il di affinità quindi parte già negativa e bisogna colmare questa cosa mentre le modifiche alle alla balestrina che ho messo io sono due corto raggio e uno stabilizzatore questo perché quando si spara con il ventaglio due non si ha il rinculo e il corto raggio invece ci aumenta il danno molto semplicemente con questo è tutto per la prima delle tre build della balestra la seconda build è quella normale quindi è quella con i proiettili normali si va a usare il nesco del cataclisma che è l'arma del nerf gigante anche qua la build come vedete praticamente è identica a quella precedente perché è così quindi non ci si può fare assolutamente niente l'unica cosa che cambia è che bisogna avere al posto di bonus ventaglio bonus normali niente di particolare credo nel senso questo è non è difficile da capire questo è mentre per quanto riguarda la balestrina da laceranti e o perforanti quindi le cose vanno di pari passo bisogna utilizzare lo xenogiva xenogiva perché ci dà la possibilità di risparmiare munizioni e considerando che noi utilizziamo il mostro come puntaspilli è fondamentale quindi con questa build si ha molta più distanza dal bersaglio ma si ha un dps molto più costante piuttosto che elevato quindi si punta alla costanza e non tanto al dps massimo come per esempio con l'aventaglio qua la build è bendader drago cotta anima di rat artigli colonna e speroni dell'oxenogiva di cui gli artigli alfa ricordatevelo le abilità sono occhio critico rivela munizioni bonus critico punto debole resistenza malus ve lo dà l'armatura antisussulto ve lo dà l'armatura sfortunatamente e poi c'è ovviamente il bonus perforanti perché bonus laceranti non c'è però bonus perforanti si e perché non fare un po' più di danni come modifiche invece alla nostra bellissima guldolette ho messo uno stabilizzatore almeno per quanto mi riguarda due ricarica assistita questo perché se noi non andiamo a mettere la ricarica assistita avremo una ricarica lente quindi il personaggio ci si fermerà mentre ricarica e non potremo continuamente spostarci queste sono le mie tre build vi posso garantire che tutte e tre funzionano perfettamente faccio il massimo dei danni che posso fare calcolati con calculator varie eventuali visti online ne ho girate di ogni di coso l'unica cosa che vi posso dare come consiglio è state attenti queste con le balestre bisogna stare tremendamente attenti perché siete fatti di carte sputo siete letteralmente fatti di carte sputo quindi se il mostro vi tocca vi toglie metà vita se il mostro vi tocca due volte beh ragazzi siete morti quindi bisogna stare molto 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 safe anche con le armi da ventaglio quindi sparate due o tre colpi e poi vi spostate due o tre colpi e poi vi spostate non è necessario sparare tutto il caricatore contemporaneamente bisogna in questo caso per tutte e tre le build avere comunque un buon occhio e sapere esattamente che pattern ha il mostro quindi occhio e spero di esservi stato molto più utile delle tre build precedenti e ci rivediamo al prossimo video ciao 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 ciao